Concludo con questo articolo che è uscito ieri, questo è un articolo molto importante, è uscito su Nature, che è la più importante rivista di scienza, ed è una cosa molto importante, cioè è stato finalmente visto che non è vero che il cervello è segregato dal punto di vista immunitario perché non ha il sistema linfatico che hanno gli altri organi, c'era anche lui. E come che ce l'ha? E sapete dove ce l'ha? Ce l'ha attaccato proprio a quelli vene del seno, dei seni petrosi, dei seni trasversi, che abbiamo visto che hanno la pressione alta quando la giugolare non funziona bene. Se io ho un aumento di pressione, mi aumenta l'area di sezione, tanto per farvi capire, questi linfatici sono là in alto, quello verde, ecco sono quelli lì, quelli piccoli vasettini, ma lo vediamo molto meglio qua sulla E a sinistra, ecco. Quello nero è sempre il lume del seno, c'è scritto sinuso al lume, ecco, quello lì, in pratica è il seno dove abbiamo misurato questo aumento di pressione, e linfatici sono quindi più. Se il seno si dilatta, perché aumenta la pressione, linfatico viene schiacciato, e anche lui drena meno bene il microcircolo dell'orecchio. Ecco l'idrobeno, è un doninfatico. E questo è uscito ieri. Avanti. Quindi